Anche i cittadini del comune di Atri in provincia di Teramo i prossimi 14 e 15 maggio dovranno recarsi le urne per eleggere il loro nuovo sindaco. Va sottolineato che per la prima volta nella storia delle elezioni amministrative della città si confronteranno solo due candidati. Da una parte noi con voi per Atri, espressione dell'amministrazione uscente con la candidatura bis del sindaco Pier Giorgio Ferretti di Aria vicino al centro-destra. La scelta di ricandidarsi naturalmente perché non è stato completato il programma del primo mandato. Questo naturalmente è l'effetto dovuto da un lato alla pandemia che ha bloccato ovviamente le amministrazioni e soprattutto poi la guerra e la crisi energetica che ha bloccato i prezzi e quindi inevitabilmente allungato tante opere. Dall'altro la possibilità che comunque c'è venuta da questa crisi e da queste problematiche cioè quella legata a sfruttare il PNRR e quindi a tutta una serie di finanziamenti che l'amministrazione ha ottenuto. Parliamo di 30 milioni di euro già ottenuti e di altri 8 milioni che possono cambiare completamente la città e quindi i disegni che l'amministrazione comunale, la nostra lista, ha pensato come idea che abbiamo di città. Dalla nostra città per rilanciare da un lato il lavoro e lo sviluppo dell'ampio patrimonio storico, architettonico e culturale e dall'altro per dare delle opportunità che possono avvedere da tutta questa serie di investimenti sul territorio. Dall'altra alleanza civica guidata da Alfonso Prosperi, medico, chirurgo e consigliere PD uscente. Sono sceso in campo perché mi si è data l'occasione di servire la mia città. Io vengo da un'esperienza politica di 10 anni di opposizione, sono stato segretario del Partito Democratico per 5 anni e in questo periodo, l'ultimo periodo, abbiamo lavorato perché si formasse questa alleanza civica che è veramente l'unica novità di questa tornata elettorale. Tenga presente che non so da quanto tempo non c'è una contrapposizione fra due liste in questa città. Quindi l'occasione di servire la mia città e la formazione di questa alleanza civica ha fatto sì che io accettassi questo incarico di candidarmi a sindaco. L'impegno di tutti, c'è stato l'impegno di tutti, partiti politici, associazioni, movimenti civici che hanno fatto tutti un passo indietro per poter dar vita a questo progetto politico molto importante per la nostra città. Dunque Atri si appresta a vivere un confronto elettorale sulla carta mai così equilibrato e lo speciale televisivo su queste amministrative con i due candidati andrà in onda domani venerdì 5 maggio alle ore 20.05 sul Rete 8.